Iniziamo con la consegna del premio del Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che viene assegnato ad un atleta della Polizia di Stato. Un campione olimpico di salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo, Gianmarco Tamberi. Fa molto piacere, sono onorato di essere qui oggi insieme a due... Valentino per me è un grandissimo idolo, quindi uno dei campioni più grandi della storia italiana, dello sport italiano. E Mancini, che è stato il primo vincitore di questa Italia vincente di questo 2021, quindi ha dato il via a tante vittorie. Abbiamo inanellato una serie di vittorie che sono partite da lui, ci ha consentito di sognare, quindi essere premiato al loro fianco è un onore immenso. In una regione che amo, non l'ho mai nascosto, ho sempre detto quanto mi piace vivere nelle Marche, quanto mi piace il mio territorio, il nostro cibo, tutto quello che abbiamo, quindi mi fa davvero piacere. Ma il mio consiglio è quello di sognare sempre in grande, di non porsi dei limiti raggiungibili, di porsi irraggiungibili, di essere gli unici a credere in quello che magari per gli altri è un'utopia. Perché il potere di poter stupire le persone è la cosa più bella che esiste. Grazie mille davvero. Grazie a tutti, è un onore essere marchigiano. Magari chissà, un giorno potrò, sarà bene un onore affiancare Roberto Mancini nel promuovere la nostra splendida regione nel mondo. Grazie a tutti.